Tris di acquisti per la Battipagliese. La società bianconera ha ufficializzato il tesseramento di Alessandro De Rosa, Carmine Senatore e Raffaele Di Giacomo. De Rosa, classe 2000, è un attaccante che ha vestito le casacche di Benevento, Paganese e Cavese. Carmine Senatore, anche gli classe 2000, è un attaccante esterno che ha giocato nell'Agnone e nella Turris. Raffaele Di Giacomo, infine, è un centravanti classe 1986, cresciuto calcisticamente nella Nocerina. Dopo le esperienze in rosso-nero, Di Giacomo ha giocato in varie squadre delle categorie minori, totalizzando 140 presenze ed 82 gol.